Taglio del nastro per il nuovo ecocentro che aprirà ufficialmente il prossimo 13 marzo e che servirà ai comuni di Breda di Piave e San Biagio di Callalta. Una superficie complessiva di quasi 6.000 metri quadrati che offre ai cittadini un'ampia possibilità di differenziazione grazie ad un'importante capacità volumetrica con le 18 postazioni per i cassoni scarrabili. Dunque un ecocentro all'avanguardia rispetto ai vecchi punti di raccolta. Un ecocentro frutto della sinergia tra Contarina e i comuni di San Biagio e Breda. Un'attenzione particolare poi alla sicurezza grazie al sistema di videosorveglianza che controllerà tutti gli accessi. Entrata nei ecocentri con sistema di telecamere che poi raccogliamo i dati in un unico centro e quindi controlliamo con un unico centro tutti gli ecocentri e tutti anche le attività di controllo del territorio che facciamo per conto dei comuni.